Musica Ecco le previsioni per giovedì 21 giugno, aggiornata alle 16 del 20. Iniziamo con una curiosità, contrariamente a quanto comunemente creduto oggi, 20 giugno, e il sostizio d'estate cade in questa data perché quest'anno è un anno bisestile, il giorno più lungo dell'anno. Da domani 21 le giornate cominceranno ad accorciarsi. E adesso vediamo al meteo, aria umida da sud ovest continua ad affluire sulla nostra zona favorendo spiccata variabilità e locali intensi temporali in un contesto generalmente poco nuvoloso. Per giovedì dopo una mattinata con tempo stabile soleggiato, dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa a carattere comuniforme, nubi che dalle zone pedemontane si allargeranno alle vicine pianure con locali precipitazioni anche temporalesche di intensità moderata o forte con possibilità di grandinate raffiche di vento in corrispondenza dei temporali. Ecco le temperature, la minima sarà di 19 gradi e la massima di 32. Grazie dell'attenzione, arrivederci.